Non mi raccomando, ma posso dire che non vivo bene questo tipo di scuola dopo gli esami, ma dopo gli esami sono una gente più bella della mia vita, quindi voglio dire a tutti quelli che hanno scelto Broca, è una bella, a tutti quelli che hanno scelto Broca, devo dire che è una scuola di vita tantissimo perché dopo mi senti un piccolo conoscitore della vita, però... Chiamissimo! Ciao, chiudiamo! Ho messo troppo tempo della mia vita, no... Gioventù bruciata! No, comunque no, sono felice, i miei professori sono stati stra-professionali. la mia classe è stata una classe piccolissima fino all'ultimo anno abbiamo messo gente quest'anno, ma siamo partiti in pochi e adesso non dico ancora niente perché dipende da chi fa gli esami mi sembra male dire che questa scuola fa cagare andiamo a ballare